ciao a tutti ragazzi io sono manchi ed eccoci qui con un nuovo aggiornamento della core and household allora è la seconda volta che registro questo aggiornamento perché la prima volta ho registrato tutto poi però sono andata a ricontrollare il video perché ovviamente dovevo vedere se c'era qualcosa di sbagliato eccetera e per tutto l'episodio per tutto l'episodio letteralmente cioè episodio aggiornamento ho continuato a chiamare questo bel giovanotto jeremy quindi in realtà si chiama johnny quindi lasciamo perdere poi avevo anche chiamato leslie bailey quindi vabbè non importa ma comunque allora siamo tornati da leslie in realtà però più che da a leslie siamo con johnny perché adesso io mi sto concentrando di più su di lui quindi sì più di sulla sua vita perché comunque ormai diciamo che con leslie abbiamo abbiamo visto tutto lei ormai è una mamma single alla sua pasticceria insomma adesso la sua vita è molto più tranquilla quindi non so mi interessava vedere piuttosto come johnny come johnny vivesse la sua adolescenza perché adesso lui è un adolescente se non vi ricordate lui è anche una sorella vi faccio vedere l'albero genealogico ora vi spiegherò anche chi è questa ragazzuola però tanto vi parlo della famiglia ecco allora ovviamente leslie sua madre suo padre è col per chi non lo sapesse perché magari non avete visto gli altri aggiornamenti comunque nella playlist trovate tutti gli aggiornamenti riguardo questa partita in particolare e allora dunque col è il padre di johnny in pratica leslie e col hanno avuto una cosa molto molto veloce diciamo niente di serio ed è nato johnny però non sono mai loro due non sono mai stati insieme per chi non ricordasse per chi non lo sapesse perché c'è sempre stato un intoppo un qualcosa che impediva a questi due giovanotti di essere felici insieme quindi alla fine non ci sono mai riusciti comunque col adesso è sposato con nora e lui e nora hanno queste due bambine e allora lei si chiama marta che se non sbaglio nello scorso episodio era una bebè però non ne sono non ne sono sicura vabbè comunque lei e poi c'è anche beatrice che diciamo la nuova giunta alla famiglia perché ancora una bebè poi il nonno di di johnny si chiama alvin è praticamente all'inizio di questa mia partita era successo che era morta sua madre in pratica lui poi ha anche una sorella ecco questa è sua sorella marissa e però è singolo sua sorella cioè non ha non ha partner né nulla e niente per quanto riguarda invece leslie leslie ha questi due figli quindi johnny avuto con col e poi rosy avuta con il suo ex marito che si chiama colin colin aveva già una figlia che si chiama noa e come vedete qua tutti i nonni sono morti in particolare leila è morta da poco infatti diciamo che loro sono stati un po il lutto perché io praticamente faccio che in questa partita che tipo una settimana al mese contando tipo a stagione ecco facciamo così e magari si capisce meglio una settimana a stagione johnny e rosy vanno a stare dai dai padri quindi rosy va da da colin mentre johnny se ne va da col allora diciamo che parlando appunto di johnny la sua adolescenza non è stata molto non è stata molto tranquilla perché in pratica questo ragazzo aspettate che metto play che questi due si stanno sbaciocchiando questo ragazzo sin da quando era piccolo ha visto sua madre avere varie relazioni diverse quindi stare con persone diverse eccetera perché per un problema o per un altro insomma sua madre non è mai riuscita ad avere una relazione completamente stabile infatti adesso è una mamma single questa cosa lui lo ha segnato abbastanza perché diciamo che adesso non crede molto nelle nelle relazioni è molto scettico molto poco fiducioso ecco quindi che cosa fa si auto sab sabota oddio si dice così sì perché praticamente lui si ovviamente ha varie relazioni però poi le termina lui prima che le le ragazze possano lasciare lui e diciamo che ciò è un po sbagliato perché lui tipo dopo due settimane di diciamo relazione chiamiamo così di frequentamento lui lascia queste ragazze le come se le usa diciamo e quindi è un po sbagliato però lui diciamo a senso suo è un'autodifesa quindi lo fa per questo e diciamo che lui lui comunque è buono come vedete ha tutti i valori qui perfetti tutto su tutti sul verde perché lui è un ragazzo buono poi è perfezionista è sicuro è un bebè superlativo è scaltro questa non la sapevo ah ok perché ha completato un'aspirazione e ha la sapienza affaristica per via comunque sempre dell'aspirazione allora lui sin da piccolo è sempre stato molto molto buono però diciamo che dentro di lui comunque c'è c'è un lato ma che fai ti addormenti parla con lei per favore facciamo adula non lo so che ora vi spiegherò anche perché questi due sono qui comunque fai questo non lo so mettiamo un po di interazioni da invisibilio facciamo aneddoto divertente praticamente lui dentro di sé comunque ha una una certa rabbia repressa perché lui comunque tiene tutto dentro non è molto bravo ad esprimere come si sente non è molto bravo ad esprimere le sue emozioni quindi lui tiene tutto dentro finché poi non arrivano quei momenti in cui invece scoppia cui ha degli atti ribelli perché adesso adesso è finita però poco fa aveva la fase ribelle quindi ma che fate ma dove andate fate del caffè venite qua quindi lui praticamente ogni tanto ha questi questi scatti di rabbia in cui inveisce certe volte contro leslie ha inveito infatti se non sbaglio avevo fatto anche delle foto poi che fa lui che adesso per esempio è mezzanotte lui ha il coprifuoco se non sbaglio alle 11 quindi lui fa sempre tardi la sera cioè non non ascolta molto le regole di casa e diciamo che questa situazione è più come dire più problematica soprattutto quando va a vivere da suo padre perché volendo diciamo che lui con sua madre si comporta un po meglio perché è più abituato a stare con lei mentre con suo padre di meno perché ovviamente con suo padre ci sta solo una settimana a stagione diciamo così e quindi non non ha l'abitudine di stare con lui quindi è più ribelle riguardo anche perché lui diciamo che suo padre da quando ha questa sua nuova famiglia lui si sente un po più escluso johnny quindi sì poi ne risulta in questi in questi atti un po ribelli ecco allora continuate qua a venire per favore perché mi servite tutti e due nello stesso posto e niente è suo padre no non è suo padre no è j senti io ti aumento un pochino qua perché altrimenti continui a tentare di dormire quindi continua a parlare con lei per favore diciamo lamentati dei genitori ecco fai anche l'agneti della vita ingiusta e poi complimento sincero ok e quindi sì insomma anche con suo padre lui ha litigato molto però poi lui si scusa perché lui comunque è buono ripeto quindi lui poi capisce di aver sbagliato però sì ha questo rapporto molto difficile anche con quelle ragazze infatti diciamo che lei non è la sua unica fiamma perché lui ha avuto mentre stava anche con lei ha avuto anche quest'altra ragazza che si chiama Brooke che ha lasciato praticamente da poco perché anche con queste ragazze ha iniziato a sentirsi un pochino intrappolato in questa in questa situazione quindi l'ha lasciata cioè hanno fatto fichi fichi e poi tipo l'ha lasciata è stata una cosa molto triste e cattiva però lo ha fatto perché lui è così purtroppo e intanto comunque stava anche con lei che si chiama Talia e adesso loro sono qui perché lui vuole lasciare anche lei adesso perché anche in questo momento lui si sente molto non so si sente un po' intrappolato come se da un momento all'altro le cose possano andare male quindi lui per tre virgolette prevenire il che è sbagliato lo stesso lui la lascerà per primo anche se magari lei non aveva la minima intenzione di lasciarlo però ok peraltro lei è stata il suo primo il suo primo fichi fichi è stata una cosa un po' random perché erano tipo in una discoteca è stata una cosa un po' così per nulla romantico eccetera però sì insomma lui ripeto lui non crede molto all'amore a queste cose qua quindi non gli importava nulla ecco e adesso lui è interessato a questa Shailene però lei diciamo che ha un po' una testa calda quindi non non ci sta tantissimo un pochino sì però dall'altra parte un po' scettica poi come altre conoscenze c'è questa ragazza che si chiama Francis che è praticamente la vicina di casa che abita dove dove abitavano i genitori i suoi nonni quindi vicini di casa e niente lui l'ha conosciuta perché stava facendo jogging vicino casa e ha visto le luci accese nella vecchia casa dei nonni quindi in curiosità è andato a vedere ha visto questa ragazza quindi si sono messi a parlare però diciamo che tra loro non c'è niente di lui ovviamente flerta però diciamo lui flerta sempre dove vai ti devo lasciare senti lasciala adesso perché eh sì allora facciamolo in diretta con tutti voi ecco qua lasciamo questa povera ragazza dovremo spezzarle il cuore mi spiace eccolo qua guardatelo è tipo senti mi spiace ma temo di doverti lasciare io non non me la sento più di continuare questa relazione voglio vedere la faccia di lei perché cioè veramente ah lei non ha capito in questo momento ti ho cosa ma che cosa stai dicendo cioè ma se poco fa stavamo ci stavamo baciando ma johnny tutto ok mi stai facendo uno scherzo vero ok guardatela ha capito che non è uno scherzo mi spiace mi spiace guardate lui lui è però dai però mi spiace guardatela mi sa che lei teneva davvero a lui no johnny dove sei dov'è guardalo tipo adesso che faccio spero che non si metta a piangere vabbè insomma lui è un po' così ah e peraltro è triste perché comunque lui lo fa lo fa veramente cioè non non è contento di quello che fa perché lui a senso suo lui si vuole cautelare però soffre ugualmente come vedete quindi sì bene adesso direi che possiamo lasciarla andare quindi sciogliamo il gruppo sciogli e guarda fai una cosa mettiti un po' a fare jogging per schierirti le idee tua madre sarà furiosa in questo momento perché tipo l'una e mezzo di notte tu sei qua in giro per la città che non è neanche brindent all babe quindi insomma vabbè e quindi che stavamo dicendo lui con quest'altra ragazza francis riprendo qua il pannello delle relazioni diciamo che lui flerta in default quindi lui flerta con tutte non è che non se vede una ragazza magari che non gli piace a lui non flerta perché comunque tutte le ragazze per lui per la maggior parte sono carine quindi lui non si fa problemi a flertare con anche con con lei insomma però in realtà lui non ha nessuna intenzione di provarci davvero con lei e lei comunque non sembra cadere nemmeno insomma questi suoi flirt perché in realtà lei è molto insicura io la vedo molto insicura e secondo me lei neanche si accorge che lui sta flertando quindi per farvi un po' capire e niente quindi per quanto riguarda le relazioni di johnny siamo qui adesso lui io lo vedo è un adolescente e lo vedo diciamo come tipo 17enne quasi 18enne e infatti tra poco lui adesso siamo in primavera e lui tra poco finirà le scuole superiori quindi lui andrà al college io non vedo l'ora perché sicuramente ne succederanno di di tutti i colori al college io già posso immaginare perché conoscendo il tipo veramente posso posso immaginare guardatelo però è triste perché lui forse a lei teneva perché comunque è pur sempre stato il suo primo fichi fichi quindi sotto sotto anche se guardatelo guardato cioè anche se non vuole ammetterlo lui teneva questa ragazza e forse cioè teneva secondo me anche a brooke perché sì lei è stata il suo primo il suo primo fichi fichi ma lei è stata la sua prima ragazza quindi sotto sotto lui diciamo ha tenuto a queste ragazze però si è comportato molto male insomma e niente quindi al college sicuro ne succederanno di tutti i colori adesso guarda vai a casa ecco e niente in pratica adesso io ho voluto fare questo aggiornamento perché volevo farlo prima di far iniziare appunto il college perché penso che appunto al college succederà di tutto quindi voglio raccontarvi quante più cose adesso così poi avrò ancora più cose da raccontarvi ecco e quindi non so vedremo un po che cosa che cosa farà questo nostro johnny magari voi mi potete dire nei commenti che ne pensate di questo ragazzo che cosa vi immaginate della sua vita di cosa potrebbe fare eccetera perché non so io vedo tante possibilità chissà magari riuscirà prima o poi a trovare la ragazza per lui quella che gli ruberà il cuore quella che insomma lo farà stare bene ecco e si innamorerà veramente io questo lo so però potrebbe potrebbe succedere e niente per il momento è un po così guardate leslie ragazzi leslie è ovviamente immacchiata e adesso ovviamente è un'adulta e cioè è sempre bellissima io non lo so come fa questa donna è meravigliosa e peraltro abbiamo anche quel quell'altro cane che in questo momento sono sbaglio e malato non ne sono sicura comunque alla fine lo abbiamo adottato perché loro non se la sono sentiti di lasciarlo andare però vedo che richiede molte cure quindi io non lo so adesso che ne sarà di questo cane nel senso se se lei deciderà di darlo a qualcuno di fidato oppure no vedremo magari anche qui voi mi potete dare una mano e niente poi ovviamente abbiamo sempre kudos insomma ah e lui si ma lo chi peraltro ok direi che per quanto riguarda questa current household ci possiamo fermare qui perché comunque vi ho detto tutto fatemi sapere che cosa ne pensate di john e del suo atteggiamento di autodifesa e comunque di questa di questa storia che si sta venendo a creare anche con lui ovviamente io vi aggiornerò quando più possibile quando giocherò con questa partita comunque direi che possiamo fermarci qui io vi mando un bacio enorme vi ricordo di mettere piace di commentare di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao